Per poter disfrutare questa partita si comincia subito per questa conclusione, arriva già la rete, clamorosa, può rimetterla in mezzo, c'è un'arrivazione, il colpo di testa, arriva la rete del 2 a 0, del bigara che arriva adesso, basta, è una due a zero, un pallone, subito per la conclusione, la parte del pallone di testa, Fiorella in aria regolare, calcia con il destro, è stato il gol del pareggio, Fiorella, la posizione per Raffian Barolo, arriva la seconda palla, posizione regolare, Raffian Barolo, calcia, 3 a 2, Giulio per il spadaro, parte De Giglio, spiazza per il spadaro, 3 a 2 di testa, deviazione, palla ancora lì, la conclusione, arriva addirittura l'aria, Il colpo di testa, il pallone, si riesce in porta, Conclusione, un grandissimo gol, quello di Andrietta, il giusto di scivola, poi un po' di partire Moscelli, posizione regolare, Moscelli con il sinistro, addirittura il bisento, passo in vantaggio, Allora in aria, per Raffian Barolo, vediamo se è calcia, la mette, perfetto!